SONO LA FIGLIA DI SHILLA CARTIER WELLS SONO LA BASTIGLIA Si va del proprio passato per un futuro migliore. Sono stanca di correre e voglio risposte. Grazie a tutti Neelin Adesso non me la sento di parlare Bad Request è ancora rinchiuso Il dottor Sebastian Quaid lo tiene sotto un protocollo di sicurezza speciale Trovalo e liberala Sia ben chiaro Lo faccio per Bad Request, non per la causa Davanti a te c'è un ascensore Ti porterà sotto la bastiglia Una volta lì Capirai tutto Grazie a tutti No cavolo Non ne ho una gran voglia Comunque andiamo Suave fattacere Suave fattacere Suave fattacere Bravo madre Fuori di mio Unire Bravo madre Appena Fuori di mio Fuori di mio Sì, Sì, Sì! Dovrai forzare delle serrature di sicurezza lungo il percorso Bad Request aveva un pick socket che teneva sempre con sé Sarà nel deposito degli effetti personali dei detenuti Dove mi trovo esattamente? Dove mandavano i pazienti più promettenti a fare da cavie Sono di nuovo qui Ed è colpa tua Dovrai Questa postazione di controllo è stata attivata. Allontanarsi per consentire la chiusura della vetrata. Allontanarsi per consentire la chiusura della vetrata. L'ho trovato. Il Big Socket di Bad Request. Ottimo. Usalo per forzare le serrature di sicurezza. Lasciami indovinare. Scoprirò che Bad Request è il mio fratello segreto. È così? Il Big Socket di Bad Request Il Big Socket di Bad Request. Cittadini di Neoparigi, mi rivolgo a voi. Cittadini di Neoparigi, mi rivolgo a voi in questo momento. Cittadini di Neoparigi, mi rivolgo a voi. Cittadini di Neoparigi, mi rivolgo a voi. Qu'è il dottor Sebastian Quaid? Sono certo che come me siate rimasti profondamente delusi seguito all'annuncio della signora Cartier-Wells. Non siamo mai stati così vicini a scoprire la causa delle mutazioni, pertanto ho deciso di portare avanti le ricerche a qualsiasi costo. Il dottore nella mia testa. Bada, ti tireremo fuori di qui. Chiusura cella per trasferimento paziente. Allontanarsi, prego. Paziente incustodito in area riservata. Paziente incustodito in area riservata. Paziente incustodito in area riservata. Grazie a tutti. 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 E così è nato il progetto di riconversione. Ora questo demente sta iniettando la sua psiche nella loro memoria. Oh, cazzo. Un esercito di Quaid Lieber. Ok, ci sto. Dobbiamo fermarlo a qualsiasi costo. Devi trovare la cella di Bed Request. I suoi ricordi ti guideranno fino a Quaid. Un'altra c'è... Un'altra c'è... Un'altra c'è... Un'altra c'è... Oh no! Grazie a tutti. 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 Guasto al sistema di controllo delle cellule. Errore d'assegnazione. Grazie a tutti. 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 Le malattie... Grazie a tutti. 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 per... ... ... ... Il soggetto è in corso, attendere prego. Soggetto numero 84 217, bad request, cacciatore di ricordi, trasferimento autorizzato. Ci rivedremo molto presto. Mi auguro sia il principio di una meravigliosa amicizia. Attenzione a tutto il personale del laboratorio. Non seguite il dottor Quay del lupo a questo percorso sterile. Non siete più voi a decidere. Sebastian, ascoltami. La riconversione è un piccolo cielo. Ne sono convinta ora. Impiantare una personalità nel tempo spezzata di questo scopo non può essere una soluzione valida. Se mi fermo ora, migliaia di liper pregrediranno improvvisamente al loro stato iniziale. La riconversione è... Dobbiamo fermare tutto questo. Aspetta, che cosa è stato? Soggetto numero 84 178, kneeling, errorista, trasferimento autorizzato. Questo corridoio... Questi colori... Sono già stata qui. E' come... E' come rivisitare l'inferno. E' qui che hanno tentato di smontarmi. Maledetto flashback. Mi sono appena intravista. Questo posto è il pentolone del diavolo. Forse è meglio che tu abbia dimenticato le pene che hai patito qui. Ehi. Sei tu che mi hai tirato fuori da questo postaccio. Non potrei mai ringraziarti abbastanza. Basta parlare, sorellina. Ciò che conta di più è fermare il dottor Quaid. Tiò che non ti è andata. Ciò che non si piegare l'inferno. Ciò che non si può farlo. La ricerca è quella che non si muove. Questa è sempre. Questa poi. Questa è la ricerca. Questa poi è sempre la ricerca. Alla ricerca è l'arta. Questa non si riconoscete. Questa è un po' di meno. Chà, la ricerca è l'arta. È un po' di meno. E un po' di meno. Ah, cacciatrice di ricordi. Giusto in tempo. Sebastien! Cacciatrice di ricordi. Cacciatrice di ricordi. Cacciatrice di ricordi. Uo! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Riconosco questo Zorn Mi ha quasi spaventato a morte Riconosco questo Zorn Guardatela, così impaziente di estinguere una nuova era di illuminismo Preferirebbe farci vivere nelle tenebre dell'individualismo Andate figli miei Dividete con lei il mio sogno Riconosco questo Zorn Assaggiate il potere collettivo Non uccidetela Voglio assaporare la sua mente Sei un anacronismo Cacciatrice di ricordi Non mi interessa più Voglio il suo sangue Uccidetela Schiacciatela L'individualismo È obsoleto È obsoleto Sei un anacronismo Cacciatrice di ricordi Cacciatrice di ricordi Cacciatrice di ricordi Nessuno può impedirmi di finire il mio lavoro Nessuno può impedirmi di finire il mio lavoro Cacciatrice di ricordi 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 Poi toccherà a me Tutto questo orrore Verrà cancellato Dalle fiamme La morte senza volto Minacce nascoste Ti vedo Morte silenziosa Morte senza volto Non serve Morte senza volto Mabeth Morte senza volto Iniziona Minacce nascoste ZAPT Vivida! Ecco il drappato! Basta! Unire! Silenzio! Neil, Johnny ha ordinato la distruzione dei lavoratori. Salterà tutto. Devi scappare. Giai Grazie a tutti.